I project work che vedrete sono il frutto di molto impegno e originale creatività. Pertanto ci auguriamo che siano di vostro gradimento. Illustrare i vari contenuti museali era la nostra grande preoccupazione per l'inevitabile difficoltà di cogliere l'essenza di ogni museo e di condividerla con gli studenti. Abbiamo cercato di trovare un trait d'union tra il museo, il territorio, il percorso culturale e il vissuto di ciascuno. La contaminazione tra le arti è stato un ulteriore aspetto che abbiamo voluto trasmettere in modo da far vivere il museo come un luogo che dà sensazioni e genera ispirazioni. Molti studenti hanno percepito il museo come un luogo vitale che ti conduce per mano. Si entra in uno spazio chiuso e limitato dove si scatena l'immaginazione che ti porta in uno spazio aperto, libero e infinito.